Musica Crisi idrica, il presidente della regione Abruzzo Marsilio chiede lo stato di emergenza, la Puglia in pressing sul Molise per ottenere acqua dalla diga del Liscione. Isernia, migrante danneggia una decina di auto in sosta in via aberta, residenti terrorizzati, parla il gestore del centro d'accoglienza. A Pescara, uomo armato di coltelli minaccia i passanti in spiaggia. La regione Abruzzo ha ordinato l'abbattimento di 500 cervi perché causano danni per un milione di euro, ma la decisione è stata criticata dal coordinatore regionale di Forza Italia, Pagano. Pescara, lunedì 19 agosto, test del DNA per i 16 anni in carcere per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani. A Capracotta, il museo d'arte sartoriale attira ogni anno visitatori da tutta Italia, possibile ammirare oltre 700 pezzi d'autore realizzati dal maestro sartore Sebastiano Di Rienzo. Bagnoli del Trigno, il paese dei tassisti. Ai nostri microfoni i loro racconti legati ai divi della dolce vita. Tra loro Giuseppe Finamore, 88 anni, il tassista più anziano di Roma. Ore calde in casa Campobasso, salutano il gruppo Parisi e Pacillo. In vilico anche il capitano Maldonado. Il Pineto si prepara alla sfida di Coppa contro il Perugia. Buon pomeriggio e ben ritrovati con la nostra informazione. Prima edizione del Tg che apriamo con la crisi idrica. Partiamo dall'Abruzzo perché il presidente Marsilio ha chiesto lo stato di emergenza al governo centrale. Noamica Lupo. È ufficiale, la regione Abruzzo ha chiesto lo stato di emergenza per la crisi idrica affardata dallo scorso primo luglio. A comunicarlo è il presidente Marco Marsilio che ha inviato la lettera con la richiesta alla presidenza del Consiglio dei Ministri. A valutarla sarà il governo amico di Giorgia Miloni. Nei giorni scorsi la necessità di rivolgersi a Roma per la dichiarazione dello stato di emergenza era stata palesata dal tavolo tecnico permanente preseduto dal vicepresidente della giunta regionale abruzzese Emanuele Imprudente. Il nostro territorio, ha commentato il governatore Marsilio, è interessato da un lungo periodo di siccità. La situazione complessa è stata aggravata dai rilevanti afflussi turistici della stagione estiva con il conseguente aggravamento del deficit idrico in atto. La crisi idrica ha colpito particolarmente il territorio della provincia di Chieti dove diversi comuni da giorni sono senza acqua con notevoli disagi per i cittadini soprattutto per bambini, anziani e malati. La regione ha assicurato il presidente Marsilio di concerto con le prefetture competenti se è attivata nell'immediato per far fronte al grave scenario emergenziale in atto e ha chiesto per l'intero territorio abruzzese la dichiarazione dello stato di emergenza. Restiamo in tema, parliamo del Molise. Lega Cop dice danni all'agricoltura per 4 miliardi al sud dimezzata la produzione di olive in Puglia che continua a pressare il governo per l'acqua del Molise. Stefania Potente La crisi idrica provocherà danni per 4 miliardi nelle regioni del sud Italia e quasi 33 mila posti di lavoro sono stati persi solo nel primo trimestre del 2024. Spaventano i numeri snocciolati dalla Lega Cop agroalimentare sull'emergenza che sta colpendo in mezzogiorno e rischia di dare un colpo fatale ad una parte del comparto agricolo. In Puglia è stata dimezzata ad esempio la produzione di olive. Non solo i cambiamenti climatici, per Lega Cop agroalimentare la crisi è anche la diretta conseguenza dell'assenza di una visione e di una politica infrastrutturale in grado di garantire un sistema idrico efficiente. Le dighe e gli invasi del meridione rappresentano il simbolo dell'incuria e dell'abbandono. Occhito ha raggiunto il punto morto pochi giorni fa e la Puglia continua a pressare il governo per ottenere l'acqua dell'invaso del Liscione. All'interno del decreto agricoltura, un ordine del giorno firmato dal parlamentare La Salandra impegna l'esecutivo a prevedere misure volte al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per i progetti di piano dei limiti e per il completamento della condotta adduttrice per l'alimentazione dei comprensori irrigui prossimi al confine regionale Puglia-Molise. Ma se Sparta, ossia la Puglia, piange, Atene, cioè il Molise, non ride. La Grim, l'ente gestore idrico del Molise, è a lavoro con i comuni per superare i giorni di crisi legata alla carenza di acqua. A Casa Calenda sono state già inviate tre autobotti. Stiamo cercando di tamponare la situazione grave che si sta verificando, ha detto la sindaca Sabrina Lallitto, ma non reggiamo alla richiesta dei cittadini. Arrivano 14 litri di acqua al secondo e la richiesta è di 22 litri al secondo, ha spiegato Lallitto. Probabilmente qualcuno fa un uso improprio, annaffiando orti e giardini. Mettiamoci qualche rottura non ancora trovata e la situazione si aggrava giorno dopo giorno. E a Montorio, al Vomano, in provincia di Teramo, a causa di emissioni anomali di fango nel potabilizzatore e per cui già si è preveduto a sporgere e denuncia all'arma dei carabinieri, la potenzialità dell'impianto è diminuita di oltre il 30%. I tecnici della Ruzzo reti al lavoro, ma potrebbero esserci disagi per diversi comuni della zona. Non è escluso che saranno interessati dagli servizi anche altri centri nelle vicinanze, come Civitella, Sant'Egidio, Torano, Ancarano, Martinsicuro, Alvadriatica, Tortoreto, Giurianova, Roseto e Pineto. In campo anche Autobotti in attesa di un pronto ripristino del servizio. Passiamo alla cronaca, andiamo a Isernia, esce dal centro di accoglienza migranti e distrugge auto, paura in via Berta, seminare il panico un 24enne egiziano. Tutti i dettagli e il messaggio dell'amministratore della struttura nel prossimo servizio. Momenti di tensione e follia in via Berta di Isernia. Ieri pomeriggio un migrante del centro di accoglienza Sayonara è uscito dalla struttura e ha sfondato i parabrezza di una decina di auto parcheggiate sulla strada. Allarme tra le persone della zona abitata da numerose famiglie che ora si dichiarano terrorizzate. L'autore dei danni e del panico a Isernia è un 24enne egiziano, ospite del centro di accoglienza dal novembre del 2022. In precedenza è stato ricoverato in psichiatria su segnalazione del Sayonara, come dichiarato dall'amministratore delegato Vincenzo Di Giacomo. I primi episodi di escandescenza del 24enne risalgono a settembre del 2023. In un caso il ragazzo ha ferito due operatori del centro a causa di un diverbio, dopodiché la richiesta della visita psichiatrica avuta a Isernia nel febbraio del 2024. Nella giornata di Ferragosso ha buttato oggetti e mobili dal balcone della sua camera al secondo piano dell'hotel. Necessario l'intervento della polizia del 118. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Cardarelli e ricoverato per un paio di ore in psichiatria, dove stando alle dichiarazioni dell'amministratore della struttura di accoglienza di Sernina sarebbe risultato l'utilizzo della cannabis e l'alterazione del tono dell'umore. Ma non una vera e propria depressione, tanto da essere dimesso con la prescrizione di una cura. Tornato in struttura purtroppo nel pomeriggio di ieri ha dato nuovamente in escandescenza, uscendo e danneggiando le auto in sosta. La polizia lo ha cercato, ma è stato lui stesso a ripresentarsi in serata al centro. Una volta bloccato è stato portato in quest'ora e al momento è ricoverato nel reparto di psichiatria a Campobasso. L'amministratore del Sayonara, Vincenzo Di Giacomo, assicura che gli episodi di cui si lamentano i residenti di via Berta di Isernia sono attribuibili sempre alla stessa persona e che è in attesa delle decisioni delle autorità competenti. Bisognerà capire a chi toccherà pagare i danni delle auto. L'accoglienza è cambiata, ha spiegato Di Giacomo, bisogna uscire fuori dal sistema di emergenza dell'accoglienza migranti e adeguare la normativa alle esigenze attuali. La notizia appena vista è stata commentata anche dal ministro Matteo Salvini che dice, 24enne immigrato egiziano, ospite di un centro d'accoglienza a Isernia, salta su diverse auto danneggiandole prima di fuggire per poi essere fermato e identificato. Grazie all'intervento di polizia e carabinieri è stato dunque identificato. Per chi non scappa, dice, da nessuna guerra e ci porta a violenza e disordine, una sola soluzione, espulsione. Andiamo ad Agnone dove nel pomeriggio di ieri un 15enne è stato investito in via Marconi mentre era a bordo della sua Vespa. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, è stato urtato da un'automobile durante un sorpasso ed è finito a terra. Il minorenne è stato trasportato all'ospedale di Agnone mentre l'automobilista è andato via senza prestare soccorso. L'uomo, un anziano, è stato rintracciato dai carabinieri mentre il 15enne resta ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sono per fortuna gravi. Stando agli accertamenti medici non ha riportato fratture ma solo qualche escoriazione per lui alcuni giorni di prognosi. È ancora cronaca a Pescara per lunedì il 19 agosto. È previsto il test del DNA per i 16 anni in carcere per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani. Sentiamo. Le prossime saranno due settimane chiave per confermare le responsabilità e la posizione degli autori dell'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il ragazzino ucciso con 25 coltellate lo scorso 23 giugno nel parco Baden-Powell di Pescara. Lunedì prossimo, 19 agosto, saranno sottoposti alla prova del DNA i due 16 anni rinchiusi in carcere per l'omicidio. L'accertamento genetico disposto dalla Procura dei minorenni consentirà di individuare tracce in grado di confermare elementi sul corpo martoriato di Christopher. Per il 26 agosto è atteso invece l'esito dell'autopsia condotta dal medico legale Christian Dovidio sul corpo della vittima che dovrebbe consentire di accertare chi ha inferto i colpi mortali al 16enne. Sempre nei prossimi giorni sarà completata anche l'analisi del consulente della Procura sui sei telefonini del gruppo di giovani. Intanto a Rosciano, il paese in cui era originario Christopher, c'è grande interesse per le iniziative e nate in suo ricordo, tra queste l'associazione Crocs, per la riscoperta dei valori, il cui significato viene ribadito dal sindaco Palozzo. Faccio i miei complimenti a Olga e a tutto il consiglio direttivo, la Presidente Marganella, perché con pochissimo tempo hanno fondato questa associazione che si promette e si propone di fare grandi iniziative, non soltanto a livello locale, quindi partendo dal Comune di Rosciano, ma hanno intenzione di lavorare su tutto il territorio nazionale. Iniziative che fanno riscoprire ai nostri ragazzi quei giusti valori della sinergia, della collaborazione, dello stare insieme, del tornare a divertirsi come facciamo noi una volta. Diverse segnalazioni sono giunte alla squadra volante di Pescara per la presenza sul lungomare Matteotti di un uomo armato di due grossi coltelli che ieri camminando minacciava i passanti. L'episodio è avvenuto ieri sera sul posto ai militari che hanno individuato il diretto interessato poco distante dal monumento della nave di Cascella. L'uomo ha posto resistenza brandendo i coltelli all'indirizzo dei poliziotti per evitare il degenerarsi della situazione. Gli agenti hanno fatto ricorso all'utilizzo della pistola a impulsi elettrici, riuscendo così a immobilizzarlo e a disarmarlo. Posti sotto sequestro i due coltelli che sono risultati essere due grandi forbici, trinciapolli. Accompagnato in questura, l'uomo è stato identificato. Si tratta di un quarantene residente nel nord Italia. È stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. La regione Abruzzo ha ordinato l'abbattimento di 500 cervi perché causano danni per un milione di euro, ma la decisione della Giunta Marsilio è stata fortemente criticata dal coordinatore regionale di Forza Italia, l'onorevole Pagano. Stefania Potente. Quasi 500 cervi saranno abbattuti perché provocano danni all'agricoltura, più dei cinghiali in alcune zone. Danni che ammonterebbero a circa un milione di euro. Parole di Emanuele Imprudente, vicepresidente regionale in Quotalega, con delega all'agricoltura, alla caccia e alla pesca, che ha spiegato le motivazioni che hanno portato la regione Abruzzo ad approvare un piano che porterà a quasi 500 abbattimenti selettivi. Dai dati sul monitoraggio delle popolazioni dei cervidi in Abruzzo emerge la presenza di un numero di capi più del doppio rispetto a quello del 2018 in termini assoluti, ha spiegato Imprudente, commentando l'approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025. In particolare, in base ai dati raccolti dalla regione Abruzzo, tra il 2019 e il 2023, i danni provocati dai cervi all'agricoltura sono stati pari a 895 mila euro e con quelli del 2024 dovrebbero superare il milione. Ai danni alle colture si sommano poi gli incidenti stradali causati dai cervi, 806 quelli denunciati nel periodo 2019-2023. Le associazioni animaliste sono sul piede di guerra, il WWF ha criticato il piano, è una decisione che lascia davvero attoniti. L'aggiunta Marsilio agisce solo per accontentare un gruppo di cacciatori, ma l'abbattimento dei cervi ha spaccato anche la maggioranza di centrodestra. Si dice fermamente contrario il coordinatore abruzzese di Forza Italia, il deputato Nazario Pagano, a suo dire si deve trovare un'alternativa. Da abruzzese, ha detto in una nota, nutro un profondo rispetto per la flora e la fauna del nostro territorio e non posso non riconoscere e difendere l'importanza di alcune specie, diventate simboli della regione. Andiamo ora a Capracotta, in altissimo Molise, dove ogni anno è visitato da migliaia di turisti il Museo d'Arte Sartoriale, dove è possibile ammirare 100 abiti d'alta moda su una collezione di 700 pezzi d'autore, realizzati dal maestro sartore Sebastiano Di Rienzo. Pasquale Damiani. Ci troviamo all'interno del Museo d'Arte Sartoriale di Sebastiano Di Rienzo a Capracotta, un museo di pregevole fattura visitato da migliaia di turisti all'anno. Per l'occasione viene esposto anche un abito talare realizzato da Franco Summa. Sì, questo si chiama la Pastor Angelicum, si chiama. Franco Summa è uno scultore abruzzese che ha fatto tante opere e tra cui questa bellissima tonaca che ha avuto a dedicare alla cristianità. Sarà inaugurato proprio in questi giorni. Stiamo vedendo di fare una cosa alla grande. Gli abiti che ci sono, come è stato già visto altre volte, c'è l'abito di Capucci che ha indossato in SPAC, c'è un altro abito che ha indossato tutti i personaggi. E anche questo è un qualcosa che arricchisce il museo di Capracotta. Ecco, quanti abiti sono esposti qui in questo museo? Cento abiti, però ne ho 700 da collezione. 500 ne sono sul catalogo e 100 soltanto ne sono esposti. Anzi, sono pure abbastanza stretti. Insomma, ecco, è vero. E faremo un turno, un cambio per questa situazione, per modificare l'aspetto visivo. Oltre, naturalmente, ci sono tante personalità che si sono avvalse della sua maestria, tra queste anche Daciano. Sì, gli feci, intanto la prima volta gli ho fatto l'abito che ha indossato per il matrimonio della nipote, Alessandra Mussolini, poi anche altre volte. Ma qui c'è un fatto da raccontare. Io la riaccompagnavo a casa la sera per farla parlare. E lei mi disse una volta, dice, no, non ho nessun rimpianto, dice, di quel tempo lì, eccetera. Anzi, mi diceva anche, dice, io non so fare nulla perché sono stato sempre in cucina, in casa, perché sono stato sempre circondato da tanta gente. Ecco, invece, questo meraviglioso abito che ho qui alle mie spalle, in questo momento, che cosa rappresenta, direzzi? Questo rappresenta una cosa fondamentale per la natura, è l'acqua, è una cascata di acqua con gli zampi lì che si vedono luccicanti e che poi finisce con questa schiuma sotto che si allarga in una cascata, insomma, meravigliosa. Invece quegli abiti sotto sono dedicati all'arcobaleno con i sette colori, insomma, dei degradè che ci sono. Ci trasferiamo a Bagnoli del Trigno dove, come ogni anno, si sono ritrovati tanti tassisti che per decenni hanno lavorato nella capitale. Vediamo. Bagnoli del Trigno si conferma la capitale dei tassisti romani di origine molisana. Quest'anno si sono ritrovati, come in ogni estate, in paese, tra ricordi, aneddoti e voglia di stare insieme come ai vecchi tempi. I tassinari, come vengono appellati nella capitale, non si sono sottratti a telecamere e microfoni per raccontare una vita spesa a bordo dei propri tassi. Tra loro anche Giuseppe Finamore, 88 anni, il tassista più anziano di Roma in attività, da quasi 65 alla guida. I colleghi lo conoscono come Peppinello e Roscetto. Abbiamo portato tutti gli attori, dal primo all'ultimo. Alberto Sordi, tanti, tutti quanti gli attori, perché durante il turno di notte facevamo servizio su Via Veneto, al Café de Paris, che adesso purtroppo è chiuso, non è più aperto. E quindi io ancora, 88 anni, ancora esercito questo servizio di taxi. L'ho fatto ben volentieri, ripeto. Così. Noi eravamo come fratello, abbiamo fatto le scuole insieme. Abbiamo lavorato insieme i camerieri, infatti. E poi si è messo a tutto a partassinare. Lui aveva ancora un ristorante a Roma. Non c'è nessuna emozione, perché è normale per me. È normale, senza emozioni. Non ho emozioni. Vengo tranquillo. Eh sì, perché a Roma è la grande città. Si sa la confusione, il caldo. E allora uno viene in questi paesi di origine. Di origine. È un paese tranquillo. Molti tassisti. Tutta gente per bene. Ci conosciamo tutti. E veniamo tutti là. A Roma sapevamo benissimo che prendevamo di tutti i colori la gente. Non sapevamo chi prendere. Attori. Gente di spettacolo. Gente religiosa. Ma tanti, tanti, tanti. Fino a che uno mi disse a me. Lo sai chi? Mi aveva preso pure Carlo Vovitila. Sono i miei che erano di origine di questo paese. E vengo tutti gli anni, qualche giorno. Perché sono affezionato. E si sta bene. È vero. Sono tornato qui dal paese perché c'è la grande festa. Santa Catarina. E poi tutto il resto. Purtroppo c'è il casino. Buon momento qui viene qui perché ti riposo in un attimo. E poi andiamo avanti. Sul ferragosto, sulla costa abruzzese, il bilancio del presidente del sindacato balneari d'Abruzzo, Riccardo Padovano, è molto positivo. Nonostante l'incognita acqua di saggi, sono verificati sulla costa dei Trabocchi. Pierluigi Boragine. Laghi, montagna, arte, cultura sono andati forte, ma la parte del leone l'ha fatta come al solito il mare. Costa adriatica abruzzese presa d'assalto a ferragosto e più in generale tutta la settimana simbolo dell'estate. Ristoranti pieni grazie a menu accessibili, lì di sold out con giochi e animazione. In attesa del rush finale di agosto e di un settembre che si spera possa essere caldo e soleggiato, attracciare il bilancio del ferragosto e il presidente del sindacato dei balneari d'Abruzzo, Riccardo Padovano. Allora, il bilancio di questo ferragosto, io dico un buon bilancio, come sempre abbiamo fatto l'unplain sui nostri lidi. Abbiamo visto che tanti pescaresi hanno preferito rimanere a Pescara e frequentare le nostre spiagge. Poi ho visto un sacco di, io a Montesilvano ho visto un sacco di figure che sono venuti da fuori, stranieri. Sullo sfondo la crisi idrica che a Montesilvano e Pescara non ha generato disagi grazie ai titolari degli stabilimenti che hanno installato serbatoi aggiuntivi, mentre grossi disagi si sono verificati sulla costa dei Trabocchi. Sulla parte del Chietino c'è stata una carenza notevole e quindi molto vermente sono entrati in crisi. Pensate un po', alle 18 veniva tolta l'acqua, quindi questa è una questione che dovrà essere affrontata e credo che la regione Abruzzo debba intervenire perché la costa dei Trabocchi è un altro brand della nostra regione che merita di essere tutelata. Numeri significativi li ha fatti registrare anche la costa blu che va da Silvia a Martinsicuro, ancora in espresso per Padovano, e invece il potenziale del porto di Pescara. Il collegamento con la Croazia aprirebbe nuovi orizzonti. Avere un porto, non avere un collegamento con la Croazia, francamente non è che una bella cosa. Alla cartolina di Pescara ci manca il porto di Pescara con il suo collegamento con la Croazia. Andiamo all'Aquila per la seconda edizione del Festival dei Popoli Europei che è stato presentato all'emiciclo il 20 agosto. Ci sarà il concerto dei Bundabash. Sabrina Giangrande. È stata presentata nel Palazzo dell'emiciclo all'Aquila in conferenza stampa la seconda edizione del Festival dei Popoli Europei che si svolgerà a Peltuinum. Quest'anno previsto per il 20 agosto il concerto dei Bundabash. L'evento è a cura della Fondazione Consiglio regionale, che realizza iniziative culturali sostenute dall'Assemblea Legislativa. Si pone l'obiettivo di continuare nel percorso di valorizzazione dell'area archeologica dei Peltuinum che anche quest'anno farà da scenario ai due appuntamenti che si svolgeranno il 20 e il 21 agosto 2024. Martedì 20 agosto alle ore 19 si esibiranno i Bundabash mentre il giorno successivo, sempre alle ore 19, sarà la volta di The Celtic Tramps più Riserva Moc. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma è stato presentato dall'assessore regionale Roberto Sant'Angelo e dal sindaco di Prata d'Anzidonia Paolo Eusani. Il Festival dei Popoli Europei rappresenta una proposta culturale e di valorizzazione territoriale integrata che si inserisce all'interno di un programma molto più ampio che comprende altre manifestazioni come il Festival della Transumanza, la Settimana D'Annunziana, la Notte dei Serpenti, una serie di proposte variegate e di rilievo che contribuiscono a mettere l'Abruzzo al centro dei flussi turistici in Italia e in Europa. Allora, un palcoscenico stupendo all'interno dell'area archeologico di Peltuinum. Già l'anno scorso abbiamo realizzato la prima deduzione di questo Festival dei Popoli Europei. Così chiamato perché le tante identità europee fanno la grande patria. Intorno a questo ragionamento, ma noi vogliamo valorizzare anche le identità e peculiarità del nostro territorio. Peltuinum è un'area che ha una vocazione naturale, è una città antica, città vestina, poi romana, che ha delle bellezze uniche, il Tempio di Apollo all'interno. Attraverso la musica, i concerti, ma anche convegnistica, vogliamo portare le persone lì per portare il ragionamento. Ospite Clou sarà il 20 di agosto il Bumbadash, gruppo Salentino, questa contaminazione con la Puglia sulla via del Tratturo. Noi ci giochiamo, ma è un tema ragionato della convivenza di due regioni che debbono sempre più dialogare per valorizzare le bellezze che hanno. E ora il messaggio del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sulla scelta della Women's Brain Foundation di inserire la dottoressa Antonella Santuccione-Cada tra le 500 donne che hanno contribuito alla storia della Svizzera. Una notizia che ci riempie d'orgoglio e riempie d'orgoglio l'intero Abruzzo. Il suo nome sarà inserito in una installazione sulla torre di Catarina, nel centro città di Zurigo, accanto al Fraunmuster e da nostra co-regionale contribuirà a far conoscere l'Abruzzo nel mondo. Alla dottoressa Santuccione, conclude il Presidente Marsilio, porgo le congratulazioni a nome personale dell'intera giunta regionale. Bene, vediamo ora che tempo farà domani in Abruzzo e in Molise col nostro meteo. Previsioni del tempo per domenica 18 agosto su Abruzzo e Molise. In Abruzzo è ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse, venti deboli e mare da quasi calmo a poco mosso. Vediamo ora le temperature. L'Aquila minima 15, massima 27 gradi. Pescara 24-29 gradi. Chieti 21-30 gradi. Teramo minima 19, massima 28 gradi. In Molise tempo stabile e per lo più soleggiato con rasserenamenti pomeridiani. Sui litorali nubi in progressivo aumento con piogge pomeridiane. Tempo variabile sull'Appennino. Venti moderati, mare poco mosso. Vediamo ora le temperature. Campobasso minima 19, massima 30 gradi. Isernia minima 19, massima 31 gradi. Termoli 23-31 gradi. Venafro minima 20, massima 31 gradi. È tutto con la nostra informazione. Vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram. E sul nostro sito. Ma non andate via perché dopo la pubblicità ci sarà la pagina sportiva. Parleremo in particolare del Campobasso che dice addio a Parisi e a Pacillo. E da valutare la situazione di Luis Maldonado. A fra poco. Ben ritrovati con la nostra pagina sportiva. Apriamo con la Serie C con il Campobasso. Ore calde in Casa Rosso Blu. Ci sono registrati due addi di altrettanti under confermati rispetto alla scorsa stagione. Ovvero Parisi e Pacillo. Ed è sotto osservazione la posizione di Maldonado. Potrebbe anche lui dire addio. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Partirà domani la lunga e ultima settimana pre-campionato. Poi si inizierà a fare sul serio con i punti in palio da conquistare sperando in una partenza lanciata. Il Campobasso torna ad allenarsi di domenica dopo tre giorni di stop in occasione del Ferragosto. Mister Braglia conta di avere a disposizione tutti gli effettivi in vista della trasferta di Arezzo. Subito un match tosto contro una delle formazioni che da alcuni addetti ai lavori è indicata tra le favorite al salto di categoria. In fase di recupero l'attaccante Fagioli pian piano sta tornando anche il centrocampista Baldassin restando in mediana da valutare attentamente la posizione di Luis Maldonado. Finora il capitano ha giocato col contagocce sia in amichevole che in Coppa Italia e la cosa non è passata di certo inosservata. Il tecnico l'ha ripreso più volte per la condizione e non è escluso che le strade possano addirittura dividersi. L'augurio è che si possa trovare la soluzione migliore sia per i lupi che per il giocatore senza dimenticare il grandissimo contributo fornito dal regista Equadoregno per la promozione in Serie C. Hanno invece già salutato il gruppo altri due reduci della passata stagione ovvero gli under Parisi e Pacillo che pure avevano garantito in fasi diverse del campionato scorso il proprio impegno alla causa Rosso Blu. Per quel che riguarda il mercato in entrata si attende l'ok per l'arrivo nel capoluogo dell'attaccante del Modena Lorenzo Di Stefano che Braglia conosce molto bene dai tempi del Gubbio. Restiamo in Lega Pro, Coppa Italia, il Pineto attende la sfida contro il Perugia. In palio ci sono gli ottavi di finale. Vincenzo Ciccone. Torna in campo domani sera con calcio di inizio alle ore 20 il Pineto di Mirko Cudini per andare ad affrontare il secondo turno, quello dei sedicesimi di Coppa Italia di Lega Pro ospitando sul rettangolo amico del Pavone Mariani il Perugia nel novero del gruppo C del Tabellone. Ambe due le formazioni vengono da un successo convincente nel turno dell'esordio della Kermestricolore. I rivieraschi col 2-0 infitto a Pescara e Cugini. Gli umbri col 4-1 rifilato in esterna a Latina. Per quello che sarà un ulteriore antipasto di campionato, il Trane dei Pinitesi con certezza dovrà fare a meno di Alessandro Pellegrino espulso domenica scorso a Pescara per condotta violenta verso un avversario. Sanzione costata agli ben tre turni di squalifica. In caso di parità al novantesimo si discuteranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente i rigori. Sempre nel novero del gruppo C, comprendendo anche Arezzo, Ascoli, Avellino, Pontetera, Casettano e Giuliano sarà individuata l'avversario degli ottavi in programma mercoledì 27 novembre mentre i quarti saranno a dicembre il 18 con semifinali e finale su doppio confronto del nuovo anno 22 gennaio e 12 febbraio le prime, 26 marzo e 9 aprile la seconda. Nel frattempo, tornando alla gara del secondo turno, antipasto di una gara di campionato in previsione al quindicesimo turno, ossia poco dopo metà novembre, a dirigere il match tra Pinitesi e Perugini sarà un fischietto lancianese, Ciro Aldi, con assistenti entrambi della sezione di Casarano ossia Cosimo Schirinzi ed Andrea Rizzello e quarto ufficiale Gabriele Sacchi da Macerata. Qualche innesso nuovo, qualche acciaccato come tutti quanti quindi sarà una partita diversa da quella che è stata in ritiro quindi ha fatto un ottimo risultato a Latina speriamo di farci trovare pronti per affrontare in migliora dei modi anche questa partita. Scendiamo in Serie D, parliamo dell'Isernia, secondo test amichevole domani alle 10.30. Rocca sicura per la squadra di Farrocco, i biancocelesti andranno ad affrontare l'FC Matese che è la processa in eccellenza, in vista di quello che sarà l'esordio di Coppa Italia fissato per il 25 agosto ad Agnone alle ore 16 contro il Teramo. Pallavolo prenderà il via il prossimo 27 agosto la preparazione precampionato dell'Europea 92 Isernia, il team Blufuxia esordirà in campionato il 13 ottobre a Villa Ricca andando a sostenere sei amichevoli prima del via la prima il 14 settembre contro il torneo annunziata di B1 previsti poi in croci con Frascati, con Sant'Elia, Fiume Rapido e probabilmente anche un torneo quadrangolare. Bene, è tutto anche con la nostra pagina sportiva vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook ed Instagram e sul nostro sito. Io vi ringrazio per averci scelto, arrivederci. Grazie a tutti.